Pre-annuncio di ricorso, ma il Pescara desisterà, alla luce del rapporto stilato nel post-gara Pescara-Reggiana dall'arbitro Maranesi di Cempino. A ragione, l'espulsione del portiere Di Gennaro a tre minuti dall'epilogo del match con gli Emiliani ha fatto infuriare tutto l'ambiente. Terna disastrosa, due gol in fuorigioco nel primo, ancora più evidente il tocco col braccio di Guglielmotti, video girato dalla curva nord. Ma veniamo all'oggetto del contendere, l'espulsione di Di Gennaro. La regola 12 del gioco del calcio recita testualmente. Se un calciatore all'interno della propria area di rigore commette un'infrazione contro un avversario al quale nega una evidente opportunità di segnare una rete, l'arbitro assegna un calcio di rigore, il calciatore colpevole dovrà essere solo ammonito se l'infrazione deriva da un tentativo di giocare il pallone. In tutte le altre circostanze, ad esempio trattenere, spingere, tirare, mancanza di possibilità di giocare il pallone, eccetera, il calciatore colpevole dovrà essere espulso. L'infrazione di Di Gennaro deriva da un chiaro tentativo di giocare il pallone. Zamparo lo anticipa e il portiere commette fallo da rigore. L'arbitro, Maranesi di Ciampino, assegna il penalty ed estrae il rosso all'indirizzo dell'estremo Bianchazzurro. Secondo la regola, testè ricordata, avrebbe potuto essere soltanto ammonito. L'errore è tecnico ma nel referto del direttore di gara si legge condotta gravemente antisportiva di Raffaele Di Gennaro a cui il giudice sportivo ha inflitto una giornata di squalifica. Le immagini dicono l'esatto contrario, smettendo lo stesso Maranesi di Ciampino. L'infrazione deriva da un tentativo di giocare il pallone. In questo caso, ripetiamo, a norma di regolamento, l'arbitro avrebbe dovuto estrarre solo il cartellino giallo. Dopo il preannuncio di ricorso, d'ufficio il giudice sportivo ha sospeso il giudizio in merito all'omologazione del risultato. Minuto 87, parziale di 2 a 2, esauriti gli slot delle sostituzioni. Auteri è costretto a impiegare Rizzo, ovvero un centrocampista, e non un portiere. Zamparo trasforma il penalty, dunque un episodio che ha impattato profondamente sulla regolarità della partita. Di fatto decisivo il margine di discrezionalità che scaturisce dal rapporto di fine gara dell'arbitro, a meno che Maranesi di Ciampino non ammetta ipotesi alquanto remota il suo errore. In C non c'è la possibilità di ricorrere alla prova televisiva. Se poi aggiungiamo il margine di discrezionalità, le regole non saranno mai nette e chiare come dovrebbero. Alla luce dunque del rapporto stilato dall'arbitro Maranesi di Ciampino e dalla mancanza di prova televisiva, il Pescara ha deciso di non andare avanti.